Nuova questura in via Anelli, il prima possibile. Per i sindacati di polizia va bene la nuova collocazione, parcheggi per il personale permettendo, va bene lo scambio di beni immobili tra Comune e De Manio, quello che non va bene è che per costruire l'edificio della Polizia di Stato in via Anelli si voglia così tanto tempo. Mi sembrano veramente eccessivi dei 7 agli 8, forse 9 anni per vedere una nuova questura a Padova. C'è da tenere presente che il Comune dovrà affrontare lo scoglio dell'accordo economico con i proprietari dei mini del complesso Serenissima. L'acquisto si aggira sui 30.000 euro a unità, vedremo quanti accetteranno senza discutere l'offerta del sindaco. Poi ci sono i cosiddetti tempi romani legati allo scambio area Prandina, area Via Anelli tra Comune e De Manio. Chiaramente anche questo è un aspetto che andrebbe chiarito fin da subito. Noi sappiamo molto bene che purtroppo le risorse per quanto riguarda il nostro ministero sono veramente esigue. Per cui nel corso di questi anni abbiamo visto come le collaborazioni con gli enti locali hanno poi determinato dei buoni risultati. Vedi ad esempio la creazione del commissariato sezionale Stanga. Grazie a tutti.